Se c'è un elemento al litio, troviamo una BMS. La BMS è un circuito per la protezione delle batterie a litio, la cui funzione è quella di proteggere da una serie di condizioni sfavorevoli le celle a litio. BMS sta per Battery Management System oppure Battery Protection Circuit. Servono ad aumentare la vita delle batterie e a proteggerle da condizioni che la danneggerebbero e creerebbero situazioni di pericolo. Inoltre, la scheda BMS serve a gestire la carica e la scarica di pacchi batterie composta da celle 18650 a litio. La batteria 18650 ha come tensione nominale un valore di 3,6-3,7V, mentre il valore di 4,2-4,4V è il valore della batteria completamente carica. La tensione di 2,8-3V è il valore della batteria completamente carica. La tensione operativa deve rientrare sempre in questo range, soprattutto se il margine della scarica è più alto. Caratteristica fondamentale è la capacità di carica espressa a mAh, che di solito troviamo in etichetta. Vediamo la capacità di carica. È data da corrente per il tempo espresso in ora. Facciamo un esempio. Su una batteria di 2100 mAh abbiamo un 2,1A per un'ora a batteria nuova. Un altro parametro fondamentale è la massima corrente di scarica, cioè la massima corrente di energia che può generare senza danneggiare la batteria. L'energia espressa in wattora è data dalla carica amperora per tensione nominale V. Spendendo per esempio la 2100 mAh per 3,7V uguale 7,77 Wattora. Quando una singola batteria ha caratteristiche insufficienti per l'utilizzo richiesto, è necessario effettuare assemblaggi di più batterie, in serie, parallelo e misto. Collegando gli elementi in serie, il più con il meno, si aumenta la tensione. La tensione totale è la somma delle tensioni di ogni elemento, mentre la corrente rimane costante. Collegando gli elementi in parallelo, più con più e meno con meno, si aumenta la capacità. La capacità totale è la somma della capacità di ogni elemento, mentre il valore di tensione rimane costante. Per il collegamento misto, cioè serie e parallelo, abbiamo un aumento sia di tensione che di capacità. Grazie a tutti. A questo punto entrano in campo le BMS, componenti essenziali della batteria a litio, dopo averle collegate con più di una cella. Le BMS sono di due tipi. Vediamo il tipo 1 per la protezione. Da sovraccarica, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito, sovratemperatura. Le BMS di tipo 2 sono tutte le protezioni come al tipo 1 più bilanciamento carica-celle. Il circuito è composto da un integrato, che funge da controllore, e da due o più MOSFET che servono per scollegare la cella quando è in condizione di pericolo. Il numero dei MOSFET dipende dalla corrente di uscita. Il dispositivo di tipo 1 permette la protezione da sovraccarica, cioè fa in modo che le celle si scollegano dal caricatore quando si raggiunge la tensione di massima carica. La protezione da sovraccarica stacca le celle dal carico, cioè se una cella scende sotto il valore di 2,8V, lo stesso viene tagliata, salva guardando la batteria. Inoltre, la scheda BMS protegge le celle scollegandolo dal carico da sovracorrente e da cortocircuito. Il ruolo della BMS è quello di staccare e attaccare per temperatura per valori sotto ai 0 gradi oppure per alta temperatura. Ogni scheda viene applicata alla cella adattandola a quella appropriata e poi vedremo la BMS 1S, 2S, 3S, 4S e così via in base alla serie che si crea. Ai bilanciatori dentro le batterie stesse, spesso quando una batteria muore di colpo è proprio il circuito a guastarsi e non gli elementi che funzionano ancora bene.